Zoppia Rich, quante volte ti ho detto che non devi lasciare chiuso fuori a Mauro? Mauro, Mauro, Mauro Ciao a tutti ragazzi, io mi chiamo Leonardo e benvenuti sul mio canale Che ne dite di un'altra sfida sui dinosauri? Questa volta però sarete voi a scegliere i partecipanti Adesso vi spiego come Questi sono i sei dinosauri partecipanti Il Giganotosauro si sta agitando Questo è il Giganotosauro, questo è il Kentrosauro, questo è il Kentrosauro, questo è il Tyrannosauro, questo è l'Anchinosauro, questo è il Venusy Raptor Blue del film Jurassic World Le sfide saranno due E dovete scegliere voi se fa sfidare Veloci Raptor contro Kentrosauro Deluciraptor contro Anchinosauro Deluciraptor contro Anchinosauro Duciraptor contro Anchinosauro E Kentrosauro contro Gigantrosauro E come fate a scegliere? Beh, in alto a destra del vostro monito C'è una I in un cerchietta Cliccatela e si aprirà una scheda B Dove potete votare la sfida che vorreste vedere Tra una settimana ci sarà il video Con le due sfide che avranno avuto più voti Mi raccomando, votate Ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto Mettete un mi piace Se vi piace il video Iscrivetevi al mio canale E ciao ciao a Leonardo Io vedo Pi.. 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 Mauro Devi fare l'aereociapra il raffredore